buona giornata il dono più bello forse oggi che possiamo fare è il dono del perdono non è così immediato non è così facile è il dono del perdono ossia il fatto che siamo chiamati a puntare al fatto che il nostro legame quello che c'è stato quello che vale di più che non il torto subito vale di più di quello che possono essere tanti pensieri o tante occasioni in cui va a toccare il nostro io facile a dirsi difficile a metterlo in atto però è vero che quando compiamo questo gesto o facciamo questi passi la nostra vita cambia e cambia anche quella degli altri allora sì che anche oggi diventa un'occasione ma soprattutto diventa un'occasione non solo per me ma anche per chi ci sta accanto per migliorare noi dobbiamo mettere su questo la spina nella presa affidiamoci alla presenza del signore per compiere tali gesti il signore ti illumini e ti benedica buona giornata grazie a tutti